Vabbè, non è quella lì comunque. Comunque, è una canzone napoletana che un grande... Gianlu, te l'introducici ora solo, vai! Egnà, egnà! A campana! A con... A mazzo! Gianlu, ci pensiamo un attimo, vai, canta! È una canzone degli anni 50 scritta a Napoli però io ascoltai la versione americana di Perry Conflash. Dov'è? Quattro, cinque, tutti ragazzi, pure in fondo, tutti il flash. Chi non è flash, mostri lo schermo. Ecco, vai, 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 bravi, bravi, la socca. Mamma come siete bravi. Anche voi mentre mangiate, bravissimi. E voi pure. Sai cosa mi sembra, tipo, ehi, ti chiamo pianeta Terra. Anche qua, signori, voi non chiamate a casa. Ecco, voi. Anche prima fila, bravissimi. Prima fila, prima fila, prima fila. Bravi, ah, guardate che bello. Anche qua, manca un angoletto qua. Qua non prenda con il cellulare. Adesso riscaldate la voce perché cantiamo tutti insieme anche, quindi un apposso. Capiccio? Adesso quando vi dico io? Quando volete. Vai. Fermi così. Freeze. Scusate voi. Ancora ci siete. Interpretato da lei e questo brano si intitola Memory. Sai che avrà un piccolo segreto, ma non so se stasera te lo dico. Che segreto? Ma scusa, sono qua. Ai, ai, ai. Qual è il suo segreto? No, non so se lo dico però stasera. Eh, dillo, dillo. Non lo so. Eh dai, dillo, c'è un segreto. Dai, ormai è un magazzino. Stasera soprattutto mi vergogno un po'. No dai, dici c'è un segreto, scusami. Ok, sai. Però ti devi concentrare. Focus. Focus. Ci sono. Con Nea Ford. Allora, in pratica io questa canzone la conoscevo sin da quando ero piccolino, giusto? E la cantavo sotto la doccia. Sì, continua. Non vogliamo tutti i dettagli di sotto la doccia, comunque. Sotto la doccia ho detto in realtà. E la cantavo. E però non... Non... No, no. Compro una vocale, non consonante. No, e forse che qua non prendo, mi sposto. No, è che non sapevo, cioè, che Barbara Streisand, la... Congiuntivo, la cantasse. Bravo. Sì, ma... Cioè, vuoi dirmi che tu, in tour con Barbara Streisand, non sapevi che Barbara Streisand... No, 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 l'ho scoperto poi, ma non... Fermo, fermo, aspetta. Un consiglio da fratello. Sì. Tu mi hai spiegato questo segreto. Sì, perché sei mio fratello. E io ti do un consiglio. Eh. Tiene il tisto segreto per te e cantare.